Ciao Alessia, sono Giulia Faravelli, direttore della comunicazione Derrina. Vorrei dire che per me bisogna soprattutto parlare di rispetto delle donne, perché questo è il punto fondamentale. Se noi abituiamo i nostri figli e le nuove generazioni ad avere rispetto per le donne, potremo fare la differenza. Fino ad allora saremo sempre, sempre soggette alle ondate di violenza che vanno respinte come condannate con forza, perché le prime ad avere fiducia in noi stesse dobbiamo essere proprio noi, avere fiducia nel nostro valore, in quello che rappresentiamo e in tutto il bene e la ricchezza che portiamo ogni giorno alle vite degli altri. Non dimentichiamo quindi che il rispetto delle donne è soprattutto cosa da uomini. E saluto tutti i partecipanti alla maratona 100 donne vestite di rosso. Un bacio.